E' una bellissima avventura, sono contenta di aver potuto partecipare, mi diverto, sto con delle persone che mi fanno star bene e speriamo vada bene, dai. Ma questa professione mi ha cambiato sicuramente in modo positivo perché mi ha fatto crescere sia a livello personale sia a livello lavorativo. Spero comunque di proseguire nel miglior modo possibile e di realizzare il mio sogno, quello appunto di diventare una parrucchiera.